Vi racconterò com'è che è successo che noi poi da lungo di là andammo a golongolo. Ogni 3 secondi un bambino muore a causa della fame, della mancanza di acqua, e di cure mediche. Shalom io lo conosco, sono stato in Africa con i suoi volontari. Dal 1974 ha fatto scuole, case famiglia, orfanotrofi, panifici e ostelli da far gestire alle popolazioni locali. Sostieni il Movimento Shalom con il 5x1000, non ti costa nulla e darai una mano a milioni di uomini, donne e bambini. Sulla tua dichiarazione di erediti indica il codice fiscale in sovraimpressione. Movimento Shalom, aiuta chi aiuta. Oggi un'altra tappa del nostro viaggio in Africa con Peacemaker. Siamo nel Congo Kinshasa, un luogo che di recente è stato ricordato molte volte dai mass media. Infatti lì è nata Cecil Kieng, il ministro dell'integrazione dell'attuale governo Letta. A raccontare il lavoro di Shalom nel Congo Kinshasa è un avvocato che lavora nella capitale, ma che ha anche uno studio nella foresta. Si chiama Josef Zimbala, un africano doc, anche se deve ancora ricordare gli studi a Firenze. L'entusiasmo di Josef è veramente straordinario. La sua speranza per una rivoluzione pacifica che ribalti le sorti di un continente straordinario come quello africano riesce davvero a travolgerci. L'avvocato Josef Zimbala è impegnato da qualche anno nell'ambito delle adozioni internazionali. La qualità del movimento Shalom che in questo settore si può intuire anche dalle sue parole. Nonostante il movimento abbia iniziato da poco ad operare in Congo, è uno dei movimenti più apprezzati per questi interventi. Noi siamo stati testimoni delle prime elezioni democratiche, diciamo del primo tentativo di elezioni democratiche nella Repubblica Democratica del Congo ormai diversi anni fa. Mandammo degli osservatori, appunto dei volontari Shalom, che presidiarono alcuni seggi dove si scrutinavano i voti. Ecco, un piccolo processo negli anni passati è iniziato, però mi sembra di capire che la macchina deve ancora ingranare. Abbiamo parlato di altre realtà spesso dell'Africa, Burkina Faso, Etiopia, Eritrea. Mi sembra anche di capire che anche a livello di paesaggio sono molto diversi dal Congo. Eh, appunto, io sono Shalom da anni, da 2005 quasi, 2004 direi, quindi ho potuto visitare anche il Burkina Faso. Ultimamente c'era il grande incontro, il primo del mondo almeno, dove tutto il paese dove c'è il movimento Shalom, quasi 18, siamo ritrovati lì per pensare veramente lo sviluppo africano, dagli africani per gli africani e al modo africano. E ero molto triste di vedere, appunto, che il Burkina Faso, ad esempio, sono stato a Senacorogo, è quasi un deserto. E invece mi dico, ma siamo fortunati nel Congo di avere tutta questa foresta, queste savane che anche quando prende un fagiolo, lo mette lì, cresce. L'arachide, vedi, cresce. E questo, appunto, il contrario, non so, il contrasto, non so, lo scandalo veramente del Congo. Ecco, con il movimento Shalom, ecco, è quello che sia importante da sottolineare, con lo spirito Shalom ho imparato a ripensare la mia vita secondo la vita degli altri. Ecco, da quando io ho studiato in Italia, sono florentino, la Coca-Cola con la canoscia horta horta, e dopo i miei studi sono tornati a casa. E tante gente vengono a trovarmi, sia a Kinshasa che nella foresta. E quello che mi dicono è che la più grande malattia non è la malaria, di cui prendono sempre il malarone, oppure i tifos, per cui prendono le vaccinazioni. La più grande malattia non sono quelle. La più grande malattia per gli europei che vengono a casa mia è di vedere la sofferenza di queste gente. È una grande malattia, è quello che fa molto più soffrire a loro. E quindi, con il movimento Shalom, forse se ne parleremo tra un po', stiamo pensando di ripensare l'Africa, di ripensare il Congo piano piano, con il piccolo, così sfruttiamo almeno questa opportunità che ci ha dato la natura, per non parlare di Dio, che ci ha dato la natura, che ci ha dato il mondo, per poter sfruttare e sviluppare un pochino il paese e il mondo e la popolazione. Ecco, una domanda ti volevo fare che molto incuriosisce, ne sono sicuro. Sappiamo che uno dei problemi del Congo, paradossalmente, è l'acqua. Però a volte mi chiedo, ma come in un territorio in cui la natura è così rigogliosa, in cui ci sono i fiumi, ci sono corsi d'acqua, ci sono le piogge, eccetera. Spiegaci un pochino qual è la problematica dell'acqua nel tuo paese? Grazie mille, è un problema importantissimo. Anche io quando sono arrivato in Italia ho visto l'acqua e quando sono tornato in Congo ho visto l'acqua. Il fiume Congo è grande, però l'acqua pulita non c'è. Il problema che abbiamo non abbiamo l'acqua pulita. Allora bisogna sapere che c'è una grande differenza nelle città e nel villaggio e nell'interno del paese. Sono dei posti in Congo dove l'acqua non c'è, è vero. Allora il problema è di pensare come fare per avere l'acqua pulita. E quello è il primo problema. E portare questa acqua pulita verso le persone. Perché prendiamo Kinshasa, una città di 10 milioni di abitanti, grande come un paese. Come si può? Tutti non possono andare al fiume Congo per andare a prendere? Com'è? Il fiume Congo non è come il fiume Arno, è un oceano quasi. E come fare? E quello quindi bisogna pensare, saper sempre mettere ognuno delle realità nel suo contesto. La mancanza dell'acqua in Burkina Faso è diversa della mancanza dell'acqua in Congo. Tutti e due non hanno bisogno dell'acqua. Il Congo ha l'acqua però l'acqua potabile non c'è e l'acqua ha portato di mano preso le persone. E questa è una cosa. Invece nel Burkina Faso, ad esempio, Shalom ha cercato di prendere l'acqua sotto terra e portarlo verso la gente. E quindi tutti e due sono delle difficoltà. E non dire che, come ho detto all'inizio, ma voi in Congo avete diamanti, come mi dice sempre la mia mamma, ma voi parlate sempre di diamanti. Io non lo vedo. Dove sono questi diamanti? Appunto ci sono, però bisogna sapere dove sono. E coloro che sanno dov'è e lo prendono per loro. Chi è? Non mi fare la domanda, per favore. Quindi praticamente un grosso problema è che, come hai detto bene te prima, il Congo è un paese ricco, un sottosuolo pieno di ricchezze e di prodotti importanti, però i congolesi non li possono utilizzare e non sono nemmeno i proprietari di questi prodotti perché chi li estrae se li porta via e lì non lascia nulla. Ma ti volevo fare ora una domanda più vicina a quella che è l'attività del movimento Shalom del Congo. Te sei il nostro referente, sei il referente del movimento e il coordinatore nazionale. Ecco, parlaci un po' di quella che è l'attività dei gruppi Shalom nel tuo paese. Grazie mille, questa è la cosa più bella per me. Il movimento Shalom in Congo non è come d'altre parti, d'altre associazioni che sono le ONLUS oppure le ONG come ne conoscete tantissime, le ONG nazionali, internazionali. Noi Shalom in Congo abbiamo lo spirito dello Shalom Italia. e quindi penso che avete già avuto l'occasione di spiegare alla gente cosa è il movimento Shalom. Il movimento Shalom non è un ONLUS come tutti gli altri. Noi abbiamo un spirito nostro che è del cuore. Non è che sia soltanto per andare a fare opera di beneficenza, no, è una vita. Ecco, un Shalom è vivere Shalom se vivere una vita di Shalom. È un modo di vivere. ogni modo di vivere si impara. Quindi nessuno può nascere Shalom. Nessuno può dire, oh no, come io vado a questa associazione e faccio parte di questa associazione. No, nessuno fa parte di Shalom. Però si impara a essere Shalom. Come coloro che dicono, si impara a essere cristiano, a essere musulmano, a essere buddista. Si impara. E quando qualcuno ha imparato, si è preso questo fino nella pelle, fino nel sangue, e finalmente si vive Shalom. Un modo di vivere il volontariato, un modo di vivere la pace. La pace non soltanto dire, no, 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 non litigare tra di noi. No, una pace interna, chi transpare interna, chi transparisce per poter produrre il pane. Perché pace senza pane non serve a niente. E pane senza pace è un macello. È quello che abbiamo noi. e due pane, le due pa, le pa di pane e le pa di pace fanno papà. E per dire che diventiamo veramente i genitori di un mondo nuovo, papà di un mondo nuovo, dove c'è la pace per il pane e il pane per la pace. Ecco questo. Allora, abbiamo cominciato appunto a formare la gente a queste, non dico ideologie, no. E non dico, no. A questo spirito, spirito di sapere che ci siamo per cercare di capire e costruire un altro mondo. Ecco, e questo tempo, questa formazione si è presa abbastanza tempo. Tranquillo, come diceva Monsignor Andrea, il fondatore, prendete il tempo. Ecco, abbiamo preso il tempo. Adesso abbiamo tanti gruppi nel Congo. Sono quasi 3.700, in una sola parte. E piano piano Shalom si sta, diciamo, andando in quasi tutte le province, tutte le regioni del Congo, all'est, ci siamo ora, piano piano verso il centro, il sud. Ecco, non abbiamo fretta. Abbiamo, piano piano, l'importante non è che di andare a fare i progetti, no. Non è il nostro problema, è di vivere prima questa vita Shalom tra di noi. I progetti vengono concepiti secondo il bisogno nostro e ci mettiamo insieme, come possiamo fare per poter andare avanti tutti. Ecco, è questa. Quindi la vita dei Shalom di Congo, non è una vita dei soci che fanno parte di un'associazione, come, non lo so, tizia associazione, però, in un gruppo di persone, in una famiglia di persone che si mettono insieme per capire e vivere in un certo modo. Ecco, e quindi la parte spirituale è molto più importante. Quindi la parte umana è molto più importante. E dopo, quando siamo uniti, andiamo avanti. Non è che tutti siamo cattolici oppure no. Quello non conta per noi. Quello che conta per noi è avere il cuore, formare la gente al cuore. Necessariamente, che quando si è formato con il cuore, si forma anche la testa, si forma anche le mani per poter lavorare. Ecco, è questo. È una vita. E non è un stile, però una vita. Ecco, tu hai detto, appunto, hai usato la parola lavorare. La tua vita, penso, il tuo esempio, è proprio quello che rispecchia un po' il modello del movimento Shalom. Come hai già accennato, tu sei venuto in Italia, hai studiato, sei avvocato, ma invece di rimanere qui, sei tornato nel tuo paese, perché vuoi essere, come ci hai già detto più volte, vuoi essere un protagonista, uno stimolo per il riscatto sociale del tuo paese, che secondo noi è un esempio molto importante per quanto riguarda la possibilità di spostarsi all'interno del panorama mondiale, ma poi tornare nei propri paesi per essere presenti e superare le difficoltà lì. Hai usato la parola lavoro. I progetti del movimento Shalom si focalizzano non sull'assistenza, ma sulla possibilità di creare sviluppo mediante il lavoro. Ecco, quali sono state le vostre idee, le idee del gruppo Shalom del Congo in merito a questa filosofia? Giuseppe, tu hai usato proprio poco fa la parola lavoro che sintetizza molto bene l'attività del movimento Shalom, cioè non creare e realizzare iniziative volte all'assistenza, ma iniziative volte allo sviluppo e al lavoro. Già la tua vita è un esempio, sei stato in Italia, hai studiato e hai deciso di tornare nel tuo paese, sei un avvocato e ti vuoi impegnare per il riscatto sociale del tuo paese. Ecco, ci racconti un po' quelle che sono le idee dei giovani Shalom, del gruppo Shalom del Congo in merito a questo. Grazie. Ma posso dire che ho detto Shalom è una vita e quindi io sono un esempio. Invece di parlare per parlare bisogna sempre dare l'esempio e sono io un esempio. Sono convinto che lo sviluppo dell'Africa deve partire dagli africani dall'Africa e non di fuori. Dopo essere venuto, ero ben istrutto nel mio paese, sono venuto a fare l'esperienza italiana, ho imparato nelle università italiane e sono ripartito in Africa perché ho capito quello che dovevo fare. Sono andato lì, non è per fare la dolce vita, ecco, sono un avvocato, ho sempre la cravatta e giacca nella capitale, però sono andato anche nella foresta lontana, più di 600 chilometri dalla capitale con tutti i beni che c'è nella capitale perché tutti i grandi personaggi vogliono essere nelle città e io sono andato anche nella foresta e lì ho fatto capire alla gente, formando la popolazione, che possiamo cambiare il mondo, possiamo cambiare le loro condizioni di vita e quindi ho fatto anche una casa lì come le case europee, però ho fatto con il materiale del posto, dicendo che possiamo cambiare anche le nostre case, ecco, e tanti hanno seguito anche l'esempio. Quello che sto dicendo non è che un discorso perché sono in Italia, potete mandare queste robe anche in Congo e tutti direanno la stessa cosa perché mi conoscono, coloro che mi conoscono lo sanno, non sono un chiaccherone, faccio e sono lì al forno per lavorare, per far capire alla gente che possiamo cambiare il mondo. Qual è finalmente l'idea del giovane Shalom? Appunto, seguono, perché io sono stato formato qui, ho visto, ho sentito un signor Andrea con le sue idee, la sua vita, la sua testimonianza e ho messo questo in pratica con loro e loro sicuramente fareanno di più di lei e quindi abbiamo dei progetti di agricoltura. Perché mi diceva l'agricoltura, un avvocato con l'agricoltura, appunto, coloro che sono di Shalom, che sono venuti in Congo, accolto ai Kinshasa e dopo portati nella foresta, hanno visto, io faccio i campi, io non mangio più i pesci congelati, abbiamo adesso tanti, tanti, come si dice, posti dove si fa, si fa, come sviluppare i pesci, l'elevamento dei pesci e adesso non è possibile che la gente muoia di fame, stiamo cercando di coltivare, abbiamo già cominciato di coltivare, piano piano, allora, cambiando un pochino la mentalità, non soltanto con la zappa, però con la zappa più grande, ancora invece quella più piccola e si fa. l'allevamento dei mucchi, del maiale, appunto, qui si dice, no, al problema dell'inquinamento, non abbiamo nella foresta il problema di inquinamento del maiale, perché i posti ci sono, non è che l'acqua sarà inquinata, no, prendiamo l'acqua e va via, usiamo ancora questa fertilità per i campi e quindi è una spiritualità, direi, per coloro che pregano, è una vita, una convinzione di vita e stanno lavorando i progetti di agricoltura, perché siamo nella fornita, la terra è grande, invece di fare sempre la dolce vita, dobbiamo sporcarsi le mani e quando le mani sono sporche, la bocca sarà gioiosa, senza mani sporche, la bocca non è gioiosa, è quello che abbiamo, è il nostro slogan, la nostra divisa, il nostro punto, è lì, sporchiamoci le mani e dopo la bocca ride, è così, e quindi abbiamo anche i progetti, molto, molto progetti ora, anche di fare un pochino, le scuole, le abbiamo fatte, non importa più di dire che l'istruzione, la formazione è la base di tutto, perché tutte le dittature del mondo non nutriscono dell'ignoranza della gente, questa si sa, appunto, bisogna vivere nella pace con la gente, e la pace cosa vuole dire? Non è che soltanto evitare le guerre, no, formare la gente a lavorare per produrre le panni nella pace, questo l'ho detto prima, importantissimo, e altri parleranno dopo, non so di che cosa però, non solo della foresta, anche nella capitale, coloro, Shalom non fa discriminazione, neanche nella capitale, adesso stiamo pensando di fare anche delle pizzerie, per coloro, perché sono Shalom che non sono mica tutti poveri, no, sono Shalom anche che sono, ecco, dobbiamo anche aiutare queste persone, non solo Shalom, per coloro che hanno un certo livello, la pizza piace anche a loro, invece di prendere la pizza, quella che si fa, non so, dal congolese, però, imparato da italiano, è bello, tanto io qui ho visto anche la birra congolese, ve lo dico, e quindi, perché non portare anche la, e questo è lo scambio di cultura, non è che dobbiamo essere chiusi solo per noi, no, il mondo adesso è grande, il mondo è uno, il mondo è unico, e quindi dobbiamo fare un pochino anche, anche una piccola fattoria, ma perché no, non soltanto rimanere, no, bisogna cambiare anche, trasformare, e arrivare a produrre, anche per gli altri, ecco, e quindi, abbiamo tutte queste, non è che di idea, però, queste convinzioni, e ci siamo, è così. Ti volevo chiedere anche questo, stai parlando continuamente, secondo me, di un concetto bellissimo, importantissimo, che poi, è quello che abbiamo espresso al convegno africano, a gennaio, in Burkina Faso, cioè che, lo sviluppo dell'Africa, deve partire dagli africani, e quindi, questa ci sembra la, la sintesi più importante, no, di tutte queste, di tutte queste indicazioni, che ci stai dando. Un'altra domanda, che penso, incuriosisce molte persone, il Movimento Shalom, organizza dei viaggi umanitari, nei paesi con cui cooperano, ma in Congo, è possibile, si può avvenire, che facciamo, organizziamo, veniamo, dici te, e i viaggi umanitari, si può avvenire, ma Luca, è in ritardo, che dici, i viaggi umanitari, ci sono sempre in Congo, sono stati, Monsignor Andrea, il fondatore del Movimento Shalom, è stato due volte, non soltanto a Kinshasa, però fino nella foresta, ha girato, è stato all'est, con la gente, con i soci Shalom, per ora, vi posso dire, che i viaggi umanitari, sono importantissimi. Fra le attività, del Movimento Shalom, in Italia, e anche in Congo, c'è l'accompagnamento, delle coppie, che vogliono intraprendere, il cammino, dell'adozione internazionale, il Movimento Shalom, come più volte abbiamo detto, è autorizzato, dalla presidenza, del Consiglio dei Ministri, come ente, per le adozioni internazionali, e, da circa un anno, poco più, ha iniziato, questa attività, anche a sostegno, di quell'infanzia, che in Congo, in nessun altro modo, avrebbe la possibilità, di sopravvivere, e in che modo, cercando di convogliare, nei confronti di questi bambini, l'amore, di un babbo e una mamma, che non possono avere figli. Ecco, ti volevo chiedere, appunto, come sta andando, questa attività, e, quali sono le cose, che tu ci senti di dire, in merito a questo? Grazie, l'adozione internazionale, nel Congo, non è che, è solo una piccola parte, delle attività, anzi, sono arrivate, molto dopo, perché, il Movimento Shalom, esiste nel Congo, da 2006, per l'adozione, le hanno cominciate, soltanto l'anno scorso, è una convinzione, una volta di più, non è che, come forse, sono tante associazioni, anche ONLUS, che, che fanno tramite, per l'adozione internazionale, solo per l'adozione internazionale, Shalom, sta facendo per bene, il suo, il suo impegno, che è un servizio, per Shalom, e lo facciamo, con cuore, e penso che, sia la CAI, oppure, il mistero in Congo, oppure, l'ambasciata italiana in Congo, tutti dicono, che, almeno, il Movimento Shalom, sta facendo, facendo le cose per bene. Ogni tre secondi, un bambino muore, a causa della fame, della mancanza di acqua, e di cure mediche. Shalom, io lo conosco, sono stato in Africa, con i suoi volontari. Dal 1974, ha fatto scuole, case famiglia, orfanotrofi, panifici, e ostelli, da far gestire, alle popolazioni locali. Sostiani il Movimento Shalom, con il 5x1000, non ti costa nulla, darai una mano, a milioni di uomini, donne e bambini. Sulla tua dichiarazione di erediti, indica il codice fiscale, in sovraimpressione. Movimento Shalom, aiuta chi aiuta. Vi racconterò com'è che è successo, che noi poi, da lungo in là, andammo a Gorongorone. Io ho lavorato in cucina, in una gestione, in un'altra con me. in un'altra con me. in un'altra con me. Viva la pap, 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 col pomo, col pomo, dior.